Cari amici, non è Cara guerra non è una lettera che scrivo alla guerra, anche se talvolta posso sembrarlo, non sono poi così tanto fuori di testa, vuole dire quanto è cara, costosa la guerra. Mi riferisco oggi a quella che c'è qui a due passi da noi, che continuiamo a finanziare e che speriamo duri poco, come diceva De Gregori, ma purtroppo non sarà solo un gioco. Ci stiamo svenando con tutto quello di cui avremmo bisogno in casa e per i nostri figli e padri e madri, per una nazione che fino a ieri quasi nessuno sapeva dove fosse esattamente, vabbè, che è giusto dare una mano. Ma forse tutto il braccio destro e poi il sinistro mi sembra perfino eccessivo. Aperta e chiusa parentesi, se San Martino avesse invece che diviso per due il suo mantello, lo avesse diviso per i 30-40 poveretti che trovava, ciascuno avrebbe avuto un francobollo del suo mantello e tutti sarebbero morti di freddo. E la carità cristiana non sarebbe servita a niente. Tanto per capirci. Dicevo, cerchiamo almeno di vederci chiaro, non vorrei che qualcuno ci mangiasse anche l'anima, oltre che tutti i gioielli di famiglia. Ecco qua, è un articolo sul fatto. Ecco chi ci guadagna da questa guerra. La Rain Metal, indossia tedesca, che produce i carri armati Leopard, delle munizioni, etc., ha aumentato del 133% il rialzo delle sue attività. Questo gruppo produce cannoni dei carri armati, le munizioni e è beneficiaria del piano di spesa di circa 100 miliardi annunciato dal cancelliere tedesco. Ma, scusate, a quelli che producono medicine fa piacere se stiamo tutti bene o se ci ammaliamo. Quelli che producono armi hanno piacere se siamo tutti pacifici e ci vogliamo bene o se ci prendiamo a coltellate, a colpi di cannone, se ci bombardiamo. Ecco questo, voglio dire, è semplicissimo. Se lo capisce scapaccino, lo dovrebbe capire chiunque, se lo vuole capire. E comunque, ancora, nel 2021 questa ditta aveva 5,66 miliardi di ricavi e un utile operativo di 594 milioni. I risultati del 22 saranno ancora migliori. L'utile previsto è di circa 958 milioni, quindi quasi il doppio. Il prezzo delle azioni di questa azienda è schizzato in aria. L'altro guadagno ci sarà sui pezzi di ricambio. Certo, non gli hanno mandato i carri armati nuovi di Trinca, gli mandano quelli vecchi. Diciamo che hanno fatto spazio nei loro arsenali. Eh sì, perché se no quelli nuovi non li possono prendere. Allora, tanto per capirci, i tedeschi in sintesi vendono i carri a tutti gli Stati europei che poi li fanno spedire in Ucraina, a cui vengono vendute poi munizioni sempre pagate da noi ovviamente. E la Germania e i soci francesi incassano. Ma siamo diventati la Grecia 2? Non ve lo ricordate? Un tempo eravamo noi a vendere la fontana di Trevi agli stranieri. Oggi spendiamo soldi per fare prendere a qualcuno la vecchia l'Italia. Sì, che in mano a noi era un costo ed era un guadagno solo per la politica e per qualche giro di sindacati un po' collusi con la politica. E ne vediamo tutti i giorni anche in Europa. Fra poco sarà una fonte di guadagno, ma solo per chi la sta acquistando, ovviamente. E guarda caso è la luftanza. Adesso devo ricominciare da capo. Devo dire, devo titolare questo pezzo invece che Cara Guerra. Cara pace. Grazie. 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 Grazie.